per noi di santa stavena queste sono ospite da mio padre ciccio paresi abbiamo degli ospiti un pochino particolari degli amici abbiamo vergine che ha cucinato tutto buonissimo poi abbiamo mio padre poi ma carmenosca si sta mantenendo i cuori ora vogliamo fare un brindis a questi amici e a tuo cognato a te li abbiamo fare un brindis papà prendi il vino che facciamo un brindis se questo è un castigo che Dio me ne manda un altro facciamo un brindis a Rattiglio e a tutti gli amici del gruppo noi di santa severina ok carmenosca saluto 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 madonna e la madonna e due ciasi a prenderci a mai a posto qua abbiamo i peperoncini piccantissimi funghi salsiccia sicurie a leve o vuoi un peperoncino? carmenosca? è peccante carmenosca formaggio casareccio vino cerò pesce abbiamo tutto vergine un saluto ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti